Il telefono continuava a squillare. Ha squillato di continuo per circa un minuto e allora ho risposto ed era Rocco che mi diceva hanno rubato tutto, quello che c'era nella mia stanza è sparito. Tutto, computer, vestiti, tutto. Ho guardato i video di sorveglianza. Gli addetti alla sicurezza hanno attraversato il corridoio fino alla mia stanza. Sono entrati e usciti con le mie cose. Le nostre stanze erano sotto controllo. Il mio telefono era sotto controllo. La mia linea internet era strana, le mie email erano strane. Al piano di sotto c'erano dei tizi strani che ci guardavano in continuazione. La questione era che non conoscevamo l'entità della situazione, né quanto potesse aggravarsi. Mi dicevano che il Dipartimento di Stato era coinvolto. Non sapevo a chi credere.